Cari amici di Finanza Online, ben ritrovati con Aliti Forum edizione numero 18. Siamo con Stefano Ocianti, responsabile dello sviluppo del business di Swissquot. Stefano, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un aumento della volatilità sui mercati. Dopo lunghe settimane in cui era davvero difficile operare, ora sembra esserci uno spunto operativo davvero interessante. Su questo aspetto vorrei chiederti, qual è l'offerta di Swissquot per quanto riguarda i clienti italiani? Decisamente sì, è ripartita finalmente la volatilità, ieri l'America ha stornato decisamente. Sulle valute comunque anche c'erano buone tendenze già prima. Swissquot si impegna sempre ad offrire ottime condizioni ai propri clienti, con spread molto bassi a partire da 0,8 sulle valute, 0,5 sugli indici. La piattaforma offerta è la meta 3 del 4. Guarda Riccardo, insistiamo davvero molto sulla formazione. Ogni giorno, il lunedì alle 15.30, andiamo a fare anche operatività in temporale, proprio per spiegare ai nostri clienti quali sono le migliori tendenze sul mercato. Stiamo spiegando più che altro strategie trend follower al momento. Ecco, la formazione è sempre molto importante. È iniziato anche il trading tour con la prima tappa di Trento. Che dire agli amici a casa? Tenete monitorato quotidianamente il sito di Swissquot per vedere gli appuntamenti formativi fissati e promossi da Stefano Gianti e dal suo team di Swissquot.